Salve e come da vostra richiesta vi mostro la M-Gate GTR in Vantablack sotto le luci naturali e guardate come il Vantablack fa si che tutte le linee e forme dell'auto spariscano in un punto nero e questo ragazzi lo rende veramente cattivissimo anche per quanto riguarda l'effetto vellutato, cioè è veramente unica nel suo genere comunque mi raccomando restate connessi e ci vediamo più tardi con le altre creature e come sempre non mancate